Hello guys, Koto here e bentornati su un nuovo video di My Hero Academia The Strongest Hero Finalmente i devs dell'eu si sono svegliati, i gift code ora funzionano anche da noi Vi ricordo chiaramente di lasciare like e di iscrivervi, nel caso non l'abbiamo ancora fatto Per redimare questo gift code basta andare qua sul regalino, andare su gift pack exchange Per redimarlo basterà inserire il codice MHAEU070 Dopodiché schiacciate su take e riceverete 200 hero coin Quindi finalmente i devs si sono svegliati, meno male, finalmente anche l'eu ha qualcosa Ragazzuoli, io vi ricordo che streamo ogni sera su Twitch, tranne il martedì, link in descrizione, andate a lasciarmi in follow Vi ricordo ancora di lasciare like e di iscrivervi, nel caso non l'abbiamo ancora fatto E noi ci rivediamo in un prossimo video, Koto out